Dimissioni in blocco e disimpegno totale da parte della dirigenza che manterrà gli impegni economici precisi fino al termine della stagione e titolo sportivo nelle mani del sindaco Ennesimo Terremoto in casa Barletta 1922 e futuro incerto per la prima squadra di calcio della città di Eraclio. La dirigenza della SD Barletta 1922 si legge nella nota, comunica in blocco le proprie dimissioni con effetto immediato. Il titolo della società sarà quindi consegnato nelle prossime ore all'amministrazione comunale. Teniamo a precisare che sono garantiti tutti gli addepimenti economici ed organizzativi di qui fino al termine della stagione sportiva 2016-2017, compresi quelli che riguardano la Juniores bianco-rossa che ha concluso in prima posizione il Gironea ed oggi impegnata negli spareggi che conducono la Pol nazionale. Il gruppo dei dirigenti dimissionari si è compattato nei momenti di difficoltà ma abbiamo riscontrato l'impossibilità di andare avanti. Ci mettiamo a disposizione di eventuali soggetti seriamente interessati al passaggio del testimone, sperando che la storia del calcio bianco-rossa avviata più di 90 anni fa possa continuare. Intanto il sindaco Pasquale Cascella ha fatto sapere che non può essere consegnato alcun titolo della società all'amministrazione comunale, auspicandosi che l'ottimo lavoro intrapreso con la squadra di Juniores possa dare un serio progetto che dia valore e continuità alla tradizione sportiva bianco-rossa. Nei prossimi giorni sono attese novità ma il futuro del Barretta 1922 appare sempre più a rischio.